Vorrei cominciare con il gioco delle tre carte, se mi permettete. Sono stato invitato recentemente a parlare in un congresso di come intervenire sulle diete e mi si diceva l'integrazione è come, quando e perché. Io ho avuto la sfortuna di mettere come prima diapositiva i tre semi, quelli del cuori, quelli dei quadri e quelli delle picche. Perché? Perché si usa nel gioco delle carte fare una sorta di organizzazione gerarchica, come quando fuori piove. Poi mi sono reso conto che avevo messo le tre carte. Però il titolo mi piace e lo vorrei ripetere anche in questa occasione in cui presentiamo l'edizione elettronica, l'edizione digitale della rivista. Come, quando, perché. Bene, innanzitutto cominciamo dal perché. Abbiamo fatto una rivista per creare e per dare strumenti di pensiero. Siamo convinti che nello sport, come in tutte le attività della vita, la conoscenza si è essenziale e lo sport si evolve anche perché non esiste soltanto una parte muscolare, esiste una parte cerebrale ed esiste soprattutto una metodica di allenamento che può permettere miglioramenti nei record, ma soprattutto miglioramenti nelle prestazioni anche per quanto riguarda la sicurezza, ma anche per quanto riguarda la relazione stretta che c'è tra attività fisica e attività cerebrale. In una delle lezioni che la FIPE ha organizzato, una parte importante è stata dedicata al brain building, perché l'attività motoria regola l'attività cerebrale, che a sua volta regola tutto quello che riguarda l'organismo e permette una cosa fondamentale, che è quello del mantenimento della salute. Nella rivista io ho il compito di portare avanti una sezione che è la macchina che c'è in noi e il tentativo è stato quello di rendere semplici concetti che possono essere estremamente complicati per chi non è del campo. In poche parole, la rivista dovrebbe dare nozioni, ma nel campo dell'allenamento abbiamo sentito la necessità che alle nozioni dovessero essere raggiunti delle azioni. Non si può apprendere qualcosa che riguarda il movimento, l'allenamento, se non si vede eseguire, se non si vede fare. E la fotografia, per quanto possa essere ripetuta con scatti, con sequenze rapide, non dà esattamente l'idea del movimento. La seconda questione però riguarda la nozione. La nozione con l'andare avanti del tempo fa sempre più parte di un concetto più generale che noi abbiamo. Noi viviamo in un ambiente, abbiamo in un contesto di azioni e di controazioni, cioè la complessità fa parte del nostro mondo. Ogni volta che cerchiamo di descrivere la biochimica, la genetica, una serie di cose che riguardano i concetti che noi esprimiamo, ci troviamo di fronte al fatto che la pagina è proprio come una fotografia, rimane fissa, mentre oggi siamo tutti abituati a lavorare con il computer e ogni volta che abbiamo un dubbio riusciamo a passare da una parte all'altra. Ma quali parti dobbiamo cercare? Ecco, creare una rivista digitale significa che ogni concetto possa essere in qualsiasi momento verificato, allargato, con un semplice click. Il mettere i link fa della rivista digitale qualcosa di differente dalla collezione dei pdf. Ecco, l'editore più volte ci ha detto guardate che fare una edizione elettronica non significa fare una collezione di pdf, significa fare qualcosa che è interattivo. Ecco, noi stiamo cercando di lavorare in una situazione che non vede molti esempi e soprattutto stiamo cercando di creare una sorta di made in Italy che sia una guida per ottenere informazioni ma soprattutto per ottenere l'educazione personale, un'educazione che faccia, diciamo, da guida ad una serie di crescite e queste crescite non possono che essere personali su chi utilizza lo strumento. Nel prossimo numero io personalmente tratto il decadimento della forza con andare avanti degli anni e gli studi ci indicano che esiste a partire dai 30 anni un progressivo decadimento. Ora gli studi a cui noi facciamo riferimento sono studi trasversali, cioè misuro la forza, cerco dei mezzi per misurarla e la misuro a tutti quelli che hanno 30 anni, a tutti quelli che hanno 40 anni, a tutti quelli che hanno 50 anni, però in realtà se io vado a vedere le persone che hanno praticato sport questo decadimento non ha niente a che vedere con il decadimento della letteratura messa in questa maniera. Io ho persone di 100 anni che corrono maratone, io sono molto più giovane e non ci riesco. Qual è il modello che dobbiamo portare avanti? Bene, è difficile metterle in una rivista di 100 pagine, ma se io faccio dei click, se io creo un sistema per accedere a dei dati, io posso avere una quantità di informazioni che mi faccio da solo. Ecco, le faccio e le faccio utilizzando dati ufficiali. Bene, il primo numero della rivista, che riguarda il decadimento della forza, riguarda proprio una sorta di allenamento a costruirsi delle tabelle personali utilizzando dei link esterni su dei siti che abbiamo preselezionato. E il mio articolo, che spero piaccia, termina proprio con buon lavoro, perché spiego come possono utilizzare questi dati e farne un elemento di meditazione su una cosa che è fondamentale. Se ci sono persone che a 100 anni corrono i 100 metri, che a 100 anni fanno le maratone, vuol dire che questi signori sono dei privilegiati o sono dei modelli da seguire perché lo sport non è soltanto fatto dai record dei ventenni, lo sport è fatto anche dai record di chi riesce ad arrivare a 100 anni in perfetta salute ed è il vero sport che coinvolge tutti noi quello di mantenere la salute. Se lo sport è l'elemento per mantenere la salute, una grossa sfida è che la rivista utilizzi i tecnici dell'allenamento per contribuire al mantenimento di quella che è l'ultima, la estrema e la più grande delle dignità dell'uomo, cioè arrivare a tarda età ma essere pienamente autonomi e potersi godere il tempo che passa. Ora questa storia della rivista digitale pone anche dei grossi vantaggi ma dei grossi problemi, dei grossi rischi. La rivista elettronica non è legata alla carta, la carta per tutti quelli della mia età è essenziale, siamo abituati a leggere fogli di carta, ma i fogli di carta pesano, costano, hanno un impatto ambientale che non finisce più. Ma soprattutto quando si fa una rivista uno dei grossi limiti è non superiamo tot pagine. E quante informazioni noi eliminiamo in questa maniera? Quante cose noi non diamo? Bene, la rivista elettronica supera il concetto della carta, anche se questa rivista avrà anche un'edizione per un certo periodo di tempo cartacea. Il problema però è che dare grandi quantità di informazioni significa anche confondere, perché se la rivista ha un compito e nella mia sezione io cerco di adeguarmi a questo compito, di rispettarlo, è di rendere facili dei concetti che sono riservati a coloro che fanno specifici mestieri. Nessuno degli allenatori legge lavori di genetica o di biochimica. Il mio compito è quello di superare questo latinorum, questa difficoltà per chi non è addetto ai lavori e dire guardate esistono una serie di informazioni che si possono tradurre anche in questa maniera. Ecco, tenete conto che ogni volta che parliamo di un argomento la genetica, la biochimica intervengono, ma voi la dovete interpretare in questa maniera. Però nessuno di noi può mettere tutte le informazioni del mondo e la selezione delle informazioni che si mettono rappresenta un grosso limite, ma anche un grosso momento etico. Perché? Perché non dobbiamo dare soltanto ciò che fa comodo a noi. E la redazione della rivista è fatta da persone che per fortuna partono da esperienze diverse, hanno idee diverse e hanno soprattutto la voglia di cimentarsi in una questione che è fondamentalmente importante nella rivista come nello sport e nel mondo, l'etica di riconoscere i limiti delle nostre azioni. Ecco, quindi l'idea di una rivista elettronica ha dentro anche l'idea del confronto e di un confronto fatto di idee, ma soprattutto di prove, che il lettore può rapidamente raggiungere.